Catelli d'Italia, d'Italia, c'è festa! Ultimo giorno di scuola, oggi i bambini degli elementari di Marchesane sono stati protagonisti di una lezione d'eccezione con professori, gli alpini, che hanno ammainato il tricolore assieme ai piccoli soldati. Per loro i ragazzini, oggi è un momento di festa, visto che la scuola è finita, ma anche tra una nostalgia. È una grande felicità per la facoltà, ma anche ho un grande mago di clora per lasciare la maestra. Per me è stata sia tanto felice, ma anche un po' difficile. Per me è stata una donna felice dell'anno, anche se mi mancheranno ogni attraverso. È stato bellissimo, abbiamo nascosto bene 18 anni. Questi 5 anni sono stati bellissimi con la maestra di Marchesane. Non un po' di tristezza, ma pronti ad affrontare una nuova avventura. Le classi costine del militare, rompete le righe e ci vediamo il 12 settembre, per il primo giorno di scuola. Grazie a tutti e buone vacanze! Buone vacanze!